32 milioni di euro per interventi di inizia scolastica che prevedono la manutenzione dell'esistente e la realizzazione di nuove strutture, 33 per le strade e la viabilità, 5 milioni e mezzo per l'ambiente, 3 per le coste, 2 per il patrimonio, ma soprattutto quello che il sindaco Luigi De Magistris ha definito il più grande piano di investimento per la scuola mai realizzato nella storia recente della città metropolitana di Napoli, reso possibile grazie allo sblocco di 676 milioni di residui attivi vantati dall'amministrazione. Questi i contenuti principali dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 presentati dal sindaco nel corso di una conferenza stampa tenutosi questa mattina nella sala Cirilo di Palazzo Matteotti. Una manovra resa ancora più difficile dai pesanti tagli inferti all'ente, solo per quest'anno 54 milioni di euro che vanno ad aggiungersi a quelli altrettanto pesanti subiti negli anni precedenti. Basti pensare che mentre al 2011 era lo Stato a trasferire fondi alla loro provincia per 104 milioni, oggi è invece la città metropolitana a dover versare allo Stato un contributo di oltre 60 milioni di euro. Ciò nonostante, il bilancio 2015 riesce, ha spiegato il sindaco, a garantire servizi ai cittadini metropolitani, compresa l'assistenza ai disabili, a tenere in mano pubbliche servizi essenziali, a salvaguardare gli equilibri delle partecipate, il tutto nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione. Ora la parola per l'approvazione definitiva passa al Consiglio metropolitano e alla conferenza dei sindaci. Sineco, si parte dal bilancio metropolitano, un bilancio importante, le città metropolitane dovranno finanziare i soldi che il governo non mette. Sì, l'abbiamo fatto con le nostre risorse, è un comportamento irresponsabile del governo che ha lasciato soli ancora una volta, non solo i sindaci dei comuni ma anche i sindaci delle città metropolitane, però con grande soddisfazione posso dire che facendo un lavoro duro, siamo riusciti a garantire le risorse necessarie, anzi anche di più, grazie veramente a un lavoro tutto cittadino nei confronti dei servizi essenziali della città metropolitana. Penso alle società partecipate come SAP, Narmene e CTP, quindi trasporto, servizi e rifiuti, penso alle scuole, alle strade, all'ambiente, alle coste. Sono un lavoro veramente importante, un lavoro di squadra, fatto dalla macchina, credo che in questo bilancio e negli atti fatti nelle settimane successive c'è il più grande piano di investimento pubblico che la provincia di Napoli, oggi città metropolitana, abbia mai conosciuto nella sua storia. Adesso sta alla macchina comunale tutta, ai cittadini, ai dirigenti scolastici, a tutte le articolazioni di questo progetto, mettere in campo immediatamente progetti, opere, gare, lavori, perché le risorse economiche le abbiamo messe. La parte politica ha fatto la sua parte, ha interpretato in modo costituzionalmente orientato le norme, non ha fatto pagare l'irresponsabilità del governo aggiunto alla propaganda di questi giorni ai servizi ai cittadini, ce la siamo messi tutti, siamo assunti responsabilità, non abbiamo per ora sforato il patto di stabilità prevedendo una dismissione del patrimonio, siamo pronti a farlo qualora necessario, insomma siamo un avamposto per l'attuazione dei diritti costituzionali di fronte invece a politiche di austerità che vanno ad entrare a gamba tesa sui cittadini e sulle comunità locali dal nord al sud del nostro paese. Aggiungo e chiudo che nei confronti della città di Napoli, e non è una mia opinione personale, ma sono dati oggettivi, c'è un ulteriore atteggiamento discriminatorio. A conferma che al contrario a quello che dice il Presidente del Consiglio e quello che sollecita un'istituzione come la Svimez, c'è una condotta apertamente discriminatoria nei confronti del Mezzogiorno e nei confronti della più grande città del Mezzogiorno d'Italia.